Operazione contro l'abusivismo commerciale ambulante a Paternò in sinergia fra polizia locale e guardia di finanza. I vigili urbani, coordinati dal comandante Antonino Laspina, sono entrati in azione per la verifica degli aspetti legati alla nona e al codice della strada. I finanzieri, con due pattuglie sotto il comando del capitano Niccolo Prosperi, hanno verificato la materia fiscale di loro stretta competenza. L'attività ha preso in esame sia il centro, sia le zone periferiche, in particolare le vie Strano, Vittorio Emanuele, Circonvallazione, Mediterraneo, Balatelle, Scala Vecchia, Emanuele Bellia, le piazze Purgatori e Carlo Alberto e Larga Sisi. Dei 14 operatori controllati, originari di Paternò e dell'Interland, tre sono stati multati per violazione della legge regionale e del regolamento comunale sul commercio in aree pubbliche per un totale di oltre 4.400 euro di sanzione. Sequestrati 55 kg fra funghi, ortaggi, agrumi e 25 kg di pesce. La Guardia di Finanza ha elevato quattro verbali per omessa attivazione del registratore di cassa e due per mancata revisione. Altri due verbali sono stati emessi per mancata revisione ai mezzi. Il controllo si è svolto nei giorni scorsi, ovviamente sarà ripetuto nei prossimi giorni e ci ha consentito di verificare la posizione di 14 operatori commerciali. Alcuni dei quali in regola e altri ovviamente no. Il controllo è stato sotto il duplice profilo annonario ed è stato particolarmente curato dalla Polizia Municipale, dal nucleo annonario. E di natura fiscale, ovviamente di questo si sono occupati i finanzieri. Abbiamo controllato soprattutto il centro cittadino, quindi parliamo di Via Strano, parliamo di Via Vittorio Emanuele, parliamo delle varie piazze. Ripeto, su 14 operatori commerciali molti erano in regola sia sotto l'aspetto dell'autorizzazione amministrativa per l'attività esercitata e anche per i mezzi utilizzati. Quindi avevano le assicurazioni, la revisione e le relative patenti ovviamente per condurre i mezzi. In alcuni casi, tre in particolare, invece è stato necessario sanzionare per mancanza di autorizzazione amministrativa con i relativi, rogando la relativa sanzione di 309 euro e ovviamente è stato operato il sequestro della merce che poi è stata devoluta in beneficenza. Parliamo sia di prodotti ittici che anche di agrumi e ortaggi. È necessario effettuare questi controlli sotto un triplice profilo. Il primo è il rispetto delle regole della concorrenza. È chiaro che chi è autorizzato regolarmente, chi paga le tasse, deve essere messo in condizione e poi di poter ricavare un guadagno della propria attività. Questi, per quanto la loro situazione economica ovviamente non sia delle più rose, non hanno autorizzazione amministrativa per cui è giusto che vengano sanzionati, anche se in malinguore, per far sì che non venga falsata la concorrenza. C'è poi anche l'aspetto della fluidità della circolazione. A volte scelgono punti che incidono in maniera pesante sulla sicurezza, della circolazione stradale e poi c'è anche il decoro urbano che ovviamente non va sottovalutato.